Ciao ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video vediamo oggi 5 giocatori da non scambiare al fantacalcio Si tratta di giocatori che non andrei a scambiare in questo momento andiamo ovviamente a vedere il perché nei singoli nomi nella nostra analisi del video odierno Prima però di andare a guardare i nomi e le analisi ti invito a lasciare un like per supportare questo video E' una cosa totalmente gratuita e ci vuole un secondo, un altro secondo ti serve per iscriverti a questo canale Ti serve per non perderti alcun nuovo contenuto che uscirà su questo canale a tema fantacalcio Detto questo ragazzi partiamo subito, fogliettino degli appunti minuscolo per andare a vedere chi sono i nomi di oggi Il primo nome è Danfris, possiamo in un certo senso dire che un po' ce l'aspettavamo, un po' in estate lo avevamo Anche detto, quella di Danfris poteva essere tutt'altra stagione rispetto a quella passata Rispetto alla stagione 2022-2023 che era stata un'annata molto molto particolare Danfris infatti lo scorso anno era partito molto bene Poi però è arrivato il mondiale, praticamente scomparso dai radar dei fanta allenatori a ritorno dal mondiale Ma perché era un'annata molto particolare, stancante Quel mondiale spezzava il ritmo, gli ha bruciato tante energie E quest'anno non ci sarà nessun mondiale e mezzo Anzi, potrà dimostrare la sua costanza per tutto l'arco della stagione E sono convinto potrà far bene per tutto l'arco della stagione Partito forte, partito fortissimo con un rendimento da top di reparto Non solo per bonus, perché ha fatto due gol e due assist Ma i numeri sono importantissimi 90% delle gare a voto ha portato a casa almeno il sempre a Gella Nel 63,6% dei casi addirittura era un 6,5 1,18 tiri a partita e 1,55 passaggi chiave per match Stiamo parlando di un giocatore che, oltre ad essere un bug di ruolo Lo sappiamo benissimo, l'ador mai per scontata Perché ricordiamoci sempre che un difensore che gioca sulla linea dei centrocampisti È un esterno del 3-5-2 di Inzaghi Ma soprattutto è un giocatore con una notevole propensione offensiva Sa farsi vedere in avanti Anzi, aggiungiamo che l'Inter è una squadra che ha tanto la palla sulla sinistra Ma questo avere la palla sulla sinistra Non esclude il fatto che possa concludere tante volte a destra Come spesso accade Proprio perché sulla sinistra magari hai giocatori più tecnici Con il piede migliore immaginiamo già un Di Marco Ma anche a livello di difensori centrali Troviamo Bastoni che ha un ottimo piede Che possono lanciare spesso la palla da sinistra verso destra E Danfris sa farsi trovare pronto Poi lui comunque dotato di ottimo fisico Abilissimo saltatore Soprattutto sempre presente sul secondo palo Quindi giocatore che veramente quest'anno può regalare tante tante soddisfazioni Aggiungiamoci anche altro motivo per cui non va scambiato Oltre i numeri, oltretutto Sta avendo un rendimento da top Noi non lo abbiamo pagato all'inizio della stagione da top di reparto E quindi ce lo teniamo ben stretto Danfris è un giocatore che in questo momento terrei al fantacalcio Il secondo nome che vado a presentarvi è quello del buon Colpani Può sembrare strano mettere Colpani in questo video Scontato direte voi Certamente vi rispondo Però non è questa una cosa per tutti Perché qualcuno pensa ogni tanto se scambiare Colpani o meno Infatti ci sono numerosi commenti sotto i miei video Ma anche diversi messaggi in direct su Instagram E se non lo avete fatto ragazzi Seguitemi su Instagram Mi trovate come fantavirus Trattino basso Fantacalcio Mi chiedete spesso se va scambiato Colpani Va scambiato Colpani per X Per Y Per Zaccani Per Zeta Per Felipe Anderson Per Kupmeiner No ragazzi In questo momento Colpani non va scambiato Anzi ve la pongo io la domanda Voi lo scambiereste un giocatore che in 12 partite Ci ha fatto 6 gol e un assist? Io no Mi sembra onestamente follia scambiare un giocatore con questi numeri A maggior ragione Se crediamo che non sia un over performance Perché se no andiamo a pensare che Colpani stia over performando Ci può stare pensare di scambiarlo e fare il colpaccio in questo momento Ma lui a livello di numeri non sta over performando Ricordate che comunque è un bug di listone alla fin dei conti Perché gioca da seconda punta sostanzialmente alle spalle della prima punta Colombo Gioca molto molto avanzato Poi quel Colombo lì che gli dà sicuramente una mano Perché Colombo non è un bomber È un numero 9 sì Ma non è uno di quelli che riesce a finalizzare tutte le azioni lui Ma anzi un po' alla petagna lo potremmo così definire Uno di quei giocatori che apre enormi spazi Per gli inserimenti dei suoi compagni E lui si trova benissimo infatti con Colombo Se guardiamo i dati di Colpani sono dati sicuramente dominanti in questo momento Oltre la media voto Perché è comunque scontato che la media voto possa essere molto molto alta Zero insufficienze Quindi nel 100% delle partite ha portato a casa il 6 in pagella Nel 75% addirittura era un 6,5 Due tiri di media partita 0,92 tiri in porta per partita E 1,92 passaggi chiave per partita Quindi in termini di assist ne ha raccolto solo uno Ma ne poteva raccogliere molti di più Giocatore che quindi ragazzi Impossibile da scambiare Non dovete farlo Perché sta facendo così bene Che il confronto non regge con nessun altro centrocampista per il momento Aggiungiamoci il capitolo mantra Ha il doppio ruolo CT miglior C dell'istone di quest'anno Si tiene se non lo avete Fate il triplo salto mortale pur di averlo Terzo nome Restiamo nei centrocampisti Parliamo di Coop Mainers Nome anche lui interessante Che sta facendo molto bene direi 3 gol e 2 assist fin qui Può superare sicuramente Quelle che erano le aspettative di molti Mie comprese Perché comunque È uno di quei pochi giocatori Che è riuscito a fare uno step A livello fantacalcistico Ha fatto uno step a livello di campo innanzitutto Perché da mediano Sta giocando costantemente trequartista E quindi riesce a raccogliere molto di più In termini di bonus È un giocatore che comunque Viaggia Verso Cifre Importantissime Al fantacalcio In proiezione per lui c'è una doppia Doppia Però quel che sicuramente Dobbiamo dire È che rispetto allo scorso anno Questa doppia e doppia sarà Molto meglio distribuita Perché se già andiamo a vedere I dati Di Coop Mainers Troviamo 1,64 tiri a partita 0,55 Importa 2,18 passaggi chiave per partita Quindi In proiezione Davvero Stiamo parlando di numeri importantissimi Soprattutto in chiave assist Sicuramente Gioco Un fatto importante Che adesso gioca costantemente Sulla trequartista E non più Come mediano Come lo scorso anno Però come detto In proiezione Doppia doppia Che può essere meglio distribuita Nello scorso anno Quindi in generale Meno insufficienze Media voto E fantamedia Più Elevata Attenzione Perché Gasperini È stato anche chiaro Muriel Primo rigorista Secondo rigorista Coop Mainer Muriel non è un titolare Quindi Coop Mainer Potrà trovare spazio Dal dischetto In questa stagione Quarto nome Ancora Sulla linea dei centrocampisti Parliamo di Felipe Anderson Qui il discorso È leggermente diverso Rispetto ai nomi Che abbiamo fatto Fino ad ora Perché Felipe Anderson Ha raccolto Un gol e quattro assist I numeri per carità Non sono bruttini Però sicuramente Un po' a deluso Come ha deluso Un po' tutto Il comparto offensivo Della Lazio Fino a questo momento Non lo vado a scambiare Innanzitutto Perché i numeri Sono buoni E sappiamo Che tipo di profilo È Felipe Anderson È quel profilo Che ci può portare Tanti bonus A centrocampo Sia come gol Sia come assist Quindi un giocatore Che il suo contributo Ce lo darà Durante il corso dell'anno Ma soprattutto Ad oggi È abbastanza svalutato Dopo le ultime uscite Magari non super convincenti Lui sicuramente Ha pagato Come un po' Tutta la Lazio Quel momento negativo A livello offensivo Dove la Lazio In generale Ha faticato A essere pericolosa Lì davanti Ma lui In particolar modo È stato Ha sofferto molto Questa cosa Se guardiamo Infatti il dato Dei tiri in porta È netto 0,25 Tiri In porta Per partita Sostanzialmente Tira Una volta In porta Ogni quattro partite Numeri Brutti Bruttissimi Per un giocatore Come lui Però Facciamo attenzione Che in questo momento È semplicemente Una questione Di precisione Perché comunque È un giocatore Che tira In porta Deve solo Aggiustare la mira E calciare di più Verso la porta E i più tre Inizieranno anche Ad arrivare Con più costanza Poi punto assist Non possiamo assolutamente Lamentarci Perché fin ad ora Il suo Ce l'ha fatto Con quattro assist Ma sicuramente Ci prospettano Altri più Uno singoli Che andranno Ad arrivare Quindi sostanzialmente Aspettiamoci Un miglioramento Da parte sua Come un po' Un miglioramento Da parte di tutta la Lazio I due possono migliorare Insieme Ultimo nome Di questo video È Dusan Vlaovic Domanda gettonatissima Dell'ultimo periodo Di questa sessione Di scambi Che faccio Con Vlaovic Lo vediamo Appunto In questo video Sicuramente Stiamo parlando Di un giocatore Che quest'anno Ha avuto Un rendimento Particolare Molto bene All'inizio Poi ha avuto Un problema fisico Ha giocato infatti Le prime cinque Da titolare Poi problema fisico Non ha giocato Un paio di partite Tornato sì Ma nelle ultime quattro Ne ha giocate solo una Dal primo minuto Perché Allegri Gli ha preferito Moise Ken Che a detta sua Era più in forma Stava meglio In quel periodo Qui ci può anche stare Per carità Però il fantelianatore Che spende tanto Per Vlaovic Si aspetta un Vlaovic Titolare Ingiustamente Anche in considerazione Di ciò Che può dare Questo Vlaovic Alla Juventus Sicuramente Stiamo parlando Di un giocatore Che ha un enorme potenziale Lo sappiamo I numeri sono Dalla sua Perché ha avuto Un inizio Positivissimo Nelle prime quattro Ci ha fatto quattro gol Con una sola doppietta Quindi aveva distribuito Anche abbastanza bene I bonus E anche rigorista Di questa Juventus Quindi questo è anche Un qualcosa in più Una garanzia in più Il suo valore però In questo momento Oscilla veramente tanto Perché è partita bomba Era alzato notevolmente Adesso Visto che non ha giocato Che ha giocato Ken Nonostante Vlaovic Fosse a disposizione Il valore è drasticamente basso Avendo un valore basso Non vi danno Nessun giocatore Alla pari Di Vlaovic Perché Un Lautaro Per ovvi motivi Non ve lo danno Osimè non ve lo danno Non vi danno nemmeno Gente come Leao Come Berardi Quei livelli lì Non vi danno nemmeno Scamacca In questo momento Cosa faccio? Io me lo tengo volentieri A quel punto Dusan Vlaovic Perché so Che un qualcosa Me la può dare in futuro Perché abbiamo detto Comunque Tre principali finalizzatori Insieme a chiesa Di questa squadra Rigorista Se guardiamo I numeri Nonostante si parli Di non gioco di Allegri I numeri da parte di Vlaovic Ci sono 2,7 tiri A partita 1,1 Importa Se gioca Sta bene E fa bene È un dato di fatto Bene ragazzi Per questo video è tutto Vi ringrazio per l'attenzione Ricordo a tutti Di lasciare un bel like Per supportare questo contenuto Se non siete iscritti Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo prossimamente Con nuovi contenuti A tema fantacalcio Ciao a tutti